Ma sì, tutto bene, posso? Bella zio! Bella Luca! Eh, prosciutto? Margherita! Ah, io ho una capricciosa! Che è la mia! Prosciutto a Margherita! Grazie! La Margherita a lei che pizza è? No! Salve! Ah! Grande! Sono fantastico! Comunque, lei si chiama Margherita e noi diamo la prosciutto a Margherita, è proprio il nome! Ah, è così, la prosciutto a Margherita, infatti! Ah, io chiedo scusa, è lavorato in un centro di igiene mentale! Ah, infermiere? No, cavia! Cavia io, lui! Complimenti, bene! Però c'è un problemino che è bruciata! Come bruciata? È bruciata! Guarda! Chiamolo su... Ibrahim! Chiamami subito Ibrahim! Chiamami subito Ibrahim! Ibrahim! Che senso ha? Che senso ha farlo così? È certo che non può, non funziona così! Vai a vedere se sei di là! Ibrahim! 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 Non ha senso quando urli parla piano! Comunque, la pizza del signore è bruciata! Bruciata! Chi faceva il monsevedico? Non aveva un'altra calza, non aveva... Ma parli arabo! Ma parli arabo? Ma parli arabo? Ma no, che crede mia! Ma certo! Le bruciate! Ascolta, le mie è colpa a me! Le mie è colpa a me! Le colpa è da quel cancro di un aiutante che mi ha messo in lei! Adesso... 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 Non mi ha detto... Non mi ha detto... Non mi ha detto che ti puoi vedere un po' al forno! Adesso... Adesso... Comunque è pazzesco! Che cosa? Si chiama come la pizza! Vai di là! Chiedo scusa! Lavorare! Sbrigarsi! Ho detto lavorare! Sì, lavorare, lavorare! Ti devo chiedere una cosa... Una cortesia, ti prego... Ma voi filippini, in Cina... Cosa fate per far ridere i bambini? Ti prego! Noi non ridiamo! Lasciamo già con la faccia che ride! Vero? Cioè questa è la risata? Sì! E questa è la risata? Ma che fece! Non la so ora! Dai, ripeti! Non la so! Dai, fammi al timido adesso! E dica, Francesco, cos'è la cultura? Dai, questa qui! Questa qui sì che è musica! Musica per le mie orecchie così allenate, tra l'altro! Vabbè! Petruzzi! Bonera! Diana! Shinzerk! Shinzerk, quello lì! E poi... Beh, belle fermate! Il capo cannoniere! Non sa niente! Hub! Hub! Dai! Porn! Ma vergogna! Hubner! Hubner! La formazione Brescia Calcio 2001! Con Hubner! Pirlo! Dai! Dai! Rrrr! 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 Renga! Hai giocato una Brescia! Sì! Questo che è proprio ignorante! Ascolta! Va, 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 va! Vai! Via! Allora, perdonali una manega d'ignoranza! Non sanno cosa dicono e non sanno cosa fanno! Dom! Quello che fanno! Che fanno! Grazie! Grazie a tutti.